Un'ulteriore tragedia che si aggiunge all'altra tragedia delle vittime della strage di Secondigliano, Francesco Bruner, ma anche le altre vittime. Una tragedia senza fine, adesso il luogotenente Vincenzo V, tutta la nostra vicinanza e solidarietà alla famiglia che con tanto dolore e con tanta dignità ha affrontato queste settimane molto molto complicate. Noi stiamo andando avanti come da impegno per conferire la medaglia d'oro al valore civile attraverso una procedura che ovviamente coinvolge lo Stato perché non è un fatto solo del Comune di Napoli ma è un riconoscimento che deve venire dal Governo.